grande condivisione tra poeti artisti e studiosi di livello internazionale in occasione del pirandello dei 2023 celebrato al circolo culturale empedocleo di agrigento un successo straordinario di partecipazione in onore del nobel agrigentino pirandello dei ha concluso il lungo ventitresimo pirandello stable festival di mario gaziano che ha portato in scena con elevato successo ben sette opere teatrali pirandelliane si è articolato in tre sezioni premiazione del dodicesimo concorso letterario una poesia per pirandello che ha registrato la partecipazione di poeti da tutte le regioni con presenze di poeti autoctoni in lingua italiana da grecia bulgaria e svizzera il conferimento del premio internazionale pergamena pirandello 2023 ventitresima edizione al chiarissimo professor aldo maria morace dell'università di sassari curatore dell'opera omnia di pirandello e ancora la consegna dei premi teatrali pirandello artist premium 2023 dodicesima edizione per l'evento teatrale vestire gli ignudi 2023 a maria grazia castellana attrice protagonista giuseppe cavalieri attore protagonista maria fantauzzo attrice coprotagonista lillo d'aleo attore coprotagonista giuseppe gramaglia attore coprotagonista alfio russo e alfonso marchica migliori caratterizzazioni e a noemi castronovo per dance perform maestro domenico mannella e coro terzo millennio per armonizzazione corale antonio zarcone autore e voce diego romeo regia tv hanno presenziato e collaborato alla cerimonia del pirandello dei 2023 il professor stefano milioto presidente merito del centro nazionale studi pirandelliani il preside franco curabba presidente del centro serroi il professor paolo cilona presidente cepasa la dottoressa carmelina guarnieri presidente fidapa ospite d'onore e la poetessa stella camiglieri progetto culturale organizzazione e conduzione di mario gaziano direttore del pirandello stable festival dal 2001 1